Salve a tutti! In questo video voglio far vedere come modificare un avvitatore che funziona a batteria e trasformarlo in un avvitatore che funziona alimentato dalla presa elettrica, quindi banalmente collegato con dei fili a una sorgente di alimentazione. Il problema nel mio caso qual è? E' che sono riuscito a recuperare questo avvitatore ma purtroppo la batteria di cui era dotata ovvero questa qui risulta essere irrimediabilmente danneggiata, quindi anche andandola a ricaricare non è possibile utilizzare l'avvitatore. E' questo tipo di problema è piuttosto comune per questo genere di strumenti in quanto generalmente dopo qualche anno la batteria si deteriora per motivi fisici e purtroppo le prestazioni dell'avvitatore continuano a declinare in modo inesonabile fino a quando purtroppo smette totalmente di funzionare come nel mio caso. Quindi l'unica soluzione che è possibile adottare in questo caso è far sì che questo avvitatore prenda la sua energia da una sorgente esterna mediando il collegamento con dei cavi. Nonostante questa sembri un'applicazione, un'operazione abbastanza semplice e banale da effettuare, in realtà se non si a fondo di qualche piccolo accorgimento il risultato è che il nostro avvitatore potrebbe non funzionare al 100% delle sue prestazioni. E adesso andremo a vedere nello specifico a cosa mi sto riferendo. Ho riportato qui sul foglio un piccolo schemino del collegamento che andremo a effettuare, quindi abbiamo la nostra sorgente di alimentazione a 12 volt, il nostro trapano, il nostro avvitatore e poi dei cavi che connettono i due dispositivi. Io ho pensato di realizzare un collegamento di 2 metri, quindi fra andata e il ritorno abbiamo una lunghezza totale del cavo di circa 4 metri. Il circuito equivalente dello schemino che vi ho appena spiegato è questo qui, ovvero abbiamo la nostra tensione di 12 volt, il nostro trapano e i cavi, ovvero i cavi possono essere rappresentati come una resistenza fra il generatore di tensione e il dispositivo che è collegato al generatore. Il problema qual è? Che quando il trapano è in funzione, quando l'avvitatore è in funzione assorbe una certa corrente in quanto sta erogando potenza e questa corrente che assorbe ha dei valori di picco quando esercita la coppia massima che può arrivare a circa 10 ampere. E che cos'è che succede? Succede che purtroppo a causa di questa resistenza abbiamo che quando il nostro carico assorbe una potenza, inizia ad assorbire potenza via via crescendo, la caduta di tensione che avviene su questa resistenza quindi lungo i cavi inizia ad aumentare e questo è qualcosa che assolutamente non va bene e che soprattutto va ad inficiare le prestazioni dell'avvitatore. Per fare un esempio abbiamo detto che l'avvitatore ha una corrente massima di assorbimento di 10 ampere quindi in questo caso che cos'è che otteniamo? Otteniamo che sui cavi andando banalmente a effettuare la moltiplicazione di 10 ampere per 0,1 ohm otteniamo una caduta di tensione di 1 volt quindi quello che succede è che al carico arriverà solo una tensione vedrà una tensione ai suoi capi pari a 11 volt quindi come conseguenza otteniamo che la coppia che il trapano può erogare diminuisce a causa di questa caduta di tensione sui cavi. Il valore di resistenza che ho scelto di avere su questa lunghezza di 4 metri di cavo è proprio uguale a 0,1 ohm proprio perché data la lunghezza abbastanza elevata già questo valore causa uno spessore dei cavi di dimensioni notevoli. Quello che adesso farò sarà quindi andare a misurare la resistenza del cavo che ho selezionato che ho scelto di utilizzare in modo da essere sicuro che il suo valore di resistenza sia inferiore o uguale a 0,1 ohm. Ecco qui il setup di misura e con molto piacere che vorrei farvi notare che sto utilizzando la sorgente di segnale a corrente costante che abbiamo costruito negli scorsi video. Funziona perfettamente ed è infatti grazie a questa che sto effettuando la misura. In pratica questo è il cavo che andrò ad utilizzare. Ho cortocircuitato i due terminali da una parte e dall'altra invece ho messo in serie un amperometro e in parallelo il voltometro alla resistenza. E sto misurando che quando passa una corrente di 113mA la tensione ai capi del cavo è di 15,7 millivolt che in pratica corrispondono a una resistenza di circa 0.14 ohm. E' leggermente superiore di circa 40 millio ma purtroppo non riesco a trovare un cavo di sezione maggiore che poi riesca a entrare nell'adattatore che ho intenzione di inserire nel trapano. Quindi ci accontenteremo di questo cavo anche se ha una resistenza leggermente superiore. Niente, era molto difficile avendo una lunghezza di 4 metri raggiungere quel risultato quindi ci dobbiamo accontentare di ciò che abbiamo. Ho ultimato le modifiche al trapano e ho utilizzato questo tipo di connettore in modo che il collegamento possa avvenire di volta in volta in modo veloce e ho inserito il connettore femmina all'interno del trapano mentre il maschio all'estremità del cavo in modo che facendo in questo modo qui sia il collegamento veloce. Per alimentare il trapano utilizzo questo tipo di alimentatore che è abbastanza potente è un 12 volt 50 ampere quindi per un totale di 600 watt e quindi è ampiamente sufficiente per reggere la potenza anche di picco di questo trapano quando eroga la massima coppia. Quindi adesso connetto l'alimentatore alla rete e facciamo qualche piccolo test sul sul trapano. Ho connesso l'alimentatore alla rete alimento il trapano ecco qui funziona perfettamente. Facciamo anche un piccolo test di forza tramite il meccanismo di frizione vediamo se il motore eroga coppie quindi imposto su sette blocco il motore alla coppia. L'ho imposto sulla coppia massima quindi il motore riesce a erogare tutta la potenza tutta la coppia che può quindi riesce a funzionare questo trapano con le sue prestazioni massime. quindi il vantaggio di questa modifica è che abbiamo sempre il trapano che funziona alla massima coppia in quanto la batteria non si scarica perché l'alimentazione è di tipo continuo mentre l'unico svantaggio è che ovviamente ci dobbiamo portare l'alimentatore dietro perché questo trapano da che era portatile diventa non più molto portatile. Molto bene per questo video quindi è tutto alla prossima